San Salvo si conferma comune attrazione rosa. L'urna del ballottaggio ha infatti premiato Emanuela De Nicolis, che prende il posto dell'uscente Tiziana Magnacca, che comunque continuerà a seguire le vicende politiche cittadine dei banchi del Consiglio Comunale. Originaria di Termoli, la candidata del centrodestra si è giudicata allo scranno più alto di Palazzo di Città con il 51,18% delle preferenze, mentre il suo sfidante, Fabio Travallini, di ispirazione centrosinistra, si è fermato al 48,82%. E' stato un lungo testa a testa fino a tardasera, infatti a fine scrutinio i voti di differenza sono stati 231 contro i 552 del primo turno. Infatti nel primo round la De Nicolis aveva chiuso al primo posto con il 47,9%, mentre Travallini si era fermato al 42,71%. Il candidato di centrosinistra ha recuperato qualcosa nelle due settimane di avvicinamento, ma complice anche il mancato apparentamento con il terzo classificato Giovanni Mariotti di ispirazione democratica, il cosiddetto ribaltone non è arrivato. Alla coalizione vincitrice vanno dieci seggi, così ripartiti. Sei per San Salvo Città Nuova, due per Lista Popolare e una testa per noi San Salvo e San Salvo e Emanuela De Nicolis sindaco. Per la coalizione sconfitta quattro seggi, due per San Salvo e due per il Partito Democratico. Ora, dopo la composizione ufficiale della squadra di governo, Emanuela De Nicolis darà il via alle nuove sfide che sono il saper intercettare e gestire al meglio i fondi del PNRR, ma anche l'inizio dell'attività di Amazon che farà di San Salvo un grande polo logistico.